Controllare tutti quelli che entrano ed escono da Ruvo di Puglia, specialmente se si tratta di Bitontini, Andriesi e Canosini. È l'anacronistica richiesta arrivata da consiglieri comunali e cittadini dopo la rapina in pizzeria della scorsa settimana, durante la quale due pregiudicati di Terlizzi hanno assaltato il locale sparando al titolare, che si è salvato grazie alla pistola inceppata. La proposta è stata avanzata durante l'incontro in municipio con il prefetto Antonio Nunziante, ospite in città, dopo l'evento delittuoso che ha scosso la comunità rughese. Il primo a sollevare la questione è stato l'ex sindaco Matteo Paparella, ora consigliere comunale d'opposizione. Per Paparella la soluzione dei problemi di criminalità è quella di presidiare tutti gli ingressi alla città e fermare chi vuole entrare ed uscire, in modo che il Bitontino, l'Andriese e il Canosino sappiano che entrare in questo paese è difficile ed uscirne lo è ancora di più. Una richiesta subito accolta da tanti rappresentanti delle associazioni del territorio che hanno rincarato la dose chiedendo anche che i forestieri venisse assegnato un pass da riconsegnare al momento dell'uscita dalla città. Una provocazione, come poi ribadito dallo stesso Paparella dopo la richiesta di chiarimenti da parte del prefetto, utile però a squarciare un velo su un problema che negli ultimi mesi si sta facendo più serio in tutta la provincia di Bari. Per Nunziante un utile deterrente resta quello delle telecamere, ma non ha fatto mistero di apprezzare l'esempio della città di Bitonto, dove un gruppo di ragazzi a rischio sono stati sottratti alla strada mettendoli in condizione di impegnarsi nella produzione di birra artigianale. Il prefetto ha affrontato anche la questione degli avvisi di garanzia consegnati a politici, tecnici e funzionari del comune per alcuni presunti illeciti edilizi, respinta al mittente l'idea dello scioglimento del Consiglio avanzata da un documento delle forze di minoranza. Chi chiede questo tipo di scelta, ha detto Nunziante, non vuole bene alla propria città. L'incontro in municipio, secondo il prefetto, è stato comunque utile per avviare una più stretta collaborazione tra il comune di Ruvo di Puglia e le forze dell'ordine. Grazie